Una grande fatica a organizzare un evento come questo, le marche in tavola, però una bella soddisfazione promuovere i prodotti marchigiani qui a Roma. Per un marchigiano come me è una grandissima soddisfazione, un grande piacere, ma soprattutto è stata una sorpresa conoscere le competenze e le professionalità della nostra regione che sono veramente al top. Devo dire che sono stato veramente colpito dalle competenze dei nostri dirigenti regionali sino ai vertici politici che sono stati disponibilissimi. Direi che il merito di questa bella iniziativa è soprattutto loro e dei loro collaboratori. Noi abbiamo offerto la nostra collaborazione che è stata di manovalanza, di impegno personale, però sono veramente molto contento e molto soddisfatto. E adesso aspettiamo i produttori, i produttori delle eccellenze marchigiane qua in mostra. Certo, per me, sono di un piccolo paese vicino Urbino, si chiama Piobbico, per me vedere a Roma i marchigiani, le aziende soprattutto del settore vitivinicolo e del settore dei prodotti tipici è una grande, grande soddisfazione. Devo dire la verità, per me è una grande soddisfazione. Dopo 23 anni che sono segretario al Pio Sottodizio I Piceni, vedere una festa marchigiana qui a San Salvatore il Lauro è di grande soddisfazione.